Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Un caro saluto a tutti da Fabio Moresco e benvenuti ad un'altra puntata di Buon compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il Santo del Giorno, 28 settembre, secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di San Massimo Martire. Oggi avvenne 28 settembre 1978. Papa Giovanni Paolo I, nato Albino Luciani, si spegne di notte dopo appena 33 giorni di pontificato. Aveva chiamato a rispondere del suo operato Monsignor Paolo Marcinkus, presidente dello IOR, il quale, dinascosto dai Vescovi Veneti, aveva ceduto al controllo della Banca Cattolica del Veneto che custodiva i conti per le opere di carità a Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano di Milano e affiliato alla loggia P2, in seguito trovato impiccato a Londra. Oggi vi racconto. Il 28 settembre del 1978 Giovanni Paolo I, conosciuto come Papa Luciani, moriva in circostanze misteriose dopo solo 33 giorni dall'avvenuta elezione al Soglio Pontificio, uno dei pontificati più brevi della storia della Chiesa. Tante le ipotesi sulla morte del Santo Padre, avvolta da aloni di mistero che hanno scatenato la fantasia di tanti complottisti, convinti che la morte del Pontefice non fosse dovuta ad una casualità ma ad un complotto ordito all'interno della stessa Chiesa di Roma. Cronache più recenti riportano addirittura di una rivelazione da parte di un gangster della famiglia mafiosa americana dei Colombo che il Santo Padre sarebbe stato avvelenato per aver scoperto una frode azionaria ordita proprio all'interno dei Sacri Palazzi. Il Papa aveva scoperto che un gruppo di truffatori falsificava in Vaticano le azioni di grandi aziende americane quale la IBM, la Coca-Cola e la Sunoco. La vicenda. Suor Vincenza, come faceva ogni giorno da 33 giorni, lascia sulla scrivania dello studio, comunicante con la stanza dove dormiva Papa Giovanni Paolo I un brico di caffè. Suor Vincenza lavorava per Albino Luciani dal 1959 quando ancora il Papa era vescovo a Vittorio Veneto. Suor Vincenza era abituata a posare il brico del caffè sul comodino del prelato ma quella mattina quando torna nello studio nota che il brico del caffè non era stato toccato. Sapendo che mai, in quasi vent'anni, Albino Luciani si era alzato dopo le 4.30, la suora bussa alla porta, prima timidamente e poi con maggiore insistenza. Preoccupata, apre la porta e lo trova sdragliato sul letto con la testa inclinata a destra, le labbra dischiusa, con gli occhiali appoggiati sul naso e con in mano delle carte, ma il Papa non respirava più e il polso era fermo. Sul comodino la lampada era ancora accesa. A questo punto, suor Vincenza, si accorge che Giovanni Paolo I è morto. L'annuncio della morte di Papa Giovanni I, salito al soglio pontificio il 26 agosto dello stesso 1978, lascia veramente una scia di domande e perplessità, mentre il mondo si chiede se Papa Giovanni Paolo I non sia morto di morte naturale, ma sia stato assassinato e perché e soprattutto da chi. Forse Papa Luciani era un innovatore che in quei pochi giorni del suo papato stava preparando un programma di rinnovamento del tessuto ecclesiastico, con un tentativo appunto di ammodernare la Chiesa, pulendola da approfittatori ed affaristi, a cominciare appunto da quel Monsignor Paolo Marcinkus, a guida dello Ior e della Banca Vaticana, coinvolto in alcune delle storie più vergognose del nostro paese, come il caso Sindona, il caso Calvi e la loggia P2 di Liciogelli. La verità ormai comprovata da più parti fu quella che Papa Luciani fu stroncato da infarto, un malore probabilmente troppo sottovalutato da chi gli stava a fianco. Il giallo della morte di Albino Luciani trova le sue risposte definitive grazie alla desecretazione vaticana dei referti medici relativi al suo stato di salute. Rimane comunque una comune verità che la sua vita si è spenta troppo presto e in fretta e il mondo cattolico intero ha perso con lui un'attesa ventata di genuinità, bontà ed umiltà evangelica che forse stiamo ancora aspettando. Si conclude qui la nostra puntata ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale youtube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno Chi no gapangadenti chi gadenti no gapang Buon compleanno Venezia un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città Grazie. 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 Grazie.